Dopo più di un anno di lavoro ritorna a splendere l'altare maggiore al santuario Madonna della Neve di Santa Lucia del Mela, luogo di culto e meta di tantissimi pellegrini e turisti. Il restauro è stato effettuato grazie alla donazione dell'ingegnere Francesco Amante, Lucia Sedoc che vive a Torino, e i lavori sono stati seguiti dal tecnico restauratore Santo Arizzi. Finalmente dopo tanto lavoro è stato consegnato questo meraviglioso altare. Sì, dopo un anno di lavori avviati il 21 febbraio del 2022, adesso a partire dal 17 maggio 2023 abbiamo la possibilità di dare di nuovo alla fruibilità dei cittadini la visione di questo bellissimo altare, un altare che risale alla prima metà del Settecento, che grazie all'archivio storico di Messita è stato possibile anche individuare dei documenti molto importanti che ci permettono anche di capire l'autore non solo dell'altare, l'igno, ma anche di tutti gli elementi che lo compongono, quindi anche le strutture in marmo e gli elementi in stucco. Che lavoro è stato? È stato un lavoro molto importante, molto difficile e molto lungo, che però ha permesso di portare alla luce tutto quello che vediamo oggi. Una cosa molto singolare che sarà illustrata in occasione del convegno è anche la scoperta dell'altare precedente. Un altare che è stato realizzato al momento dell'arrivo della Madonna qui al santuario. Sappiamo infatti che la Madonna arrivò alla fine del Seicento al santuario e quindi venne realizzato il santuario in occasione dell'arrivo di questa bellissima statua. E poi nel 1700, agli inizi del 1700, venne fatta la nuova macchina a linea che vediamo oggi e di conseguenza l'altare precedente venne completamente rimosso. Grazie a questo restauro abbiamo nuovamente la possibilità di visionarlo anche se in piccoli frammenti. Possiamo dire che c'è un altro fiore all'occhiello della città di Santa Lucia del Mela? Assolutamente, sicuramente rappresenta il simbolo di Santa Lucia proprio per la presenza della Madonna della Neve e quindi per la grande devozione che i lucesi hanno e non solo i lucesi ma anche tutto il comprensorio. Dopo il restauro ovviamente la Madonna è molto più valorizzata in una cornice nuova e con una nuova visione.